una prestazione sportiva è fatta di allenamento tempismo concentrazione e forza ovo maltina da forza solo ovo maltina è ricca di malto e di latte uova e cacao per fare il pieno di energie con gusto ogni mattina salve ora sì che siete pronti per battermi ovo maltina da forza ovo maltina da forza